Io credo che sia una scelta di realismo, bisogna valutare bene i numeri, la cosa peggiore che può succedere è portare in aula un provvedimento al quale noi teniamo molto, io personalmente tengo molto e farlo bocciare, quindi una volta bisogna fare un bagno di realismo, capire e poi decidere di procedere. Ma il gruppo di Ala si è detto disponibile a votare? Beh intanto verifichiamolo, il gruppo di Ala viene considerato affidabile in certe fasi su certe leggi e poco affidabile in altre, insomma io sono disponibile a verificarlo, lo farò.